Il sindaco scrive all'onorevole Vaccaro a scafarsi Scafati subito all'emergenza Scafati è il giorno della memoria, per non dimenticare Terza giornata di Lega 2, ancora due punti per la Givova Scafati Si è recato a Roma presso il Ministero dell'Ambiente il primo cittadino Pasquale Aliberti per discutere della ripresa dei lavori di dragaggio e interrotti dal mese di luglio a causa della presenza di microtracce di amianto nel tratto che interessa il fiume Sarno fino alla traversa di Scafati e i canali Bottaro-Fienga Nel corso della conferenza di servizi alla quale ha partecipato la delegazione del Ministero dell'Ambiente l'ARPAC, l'autorità di Bacino, il commissario delegato ex OPCM e il sindaco di Castel San Giorgio il sindaco Aliberti ha rappresentato con forza l'esigenza del territorio di Scafati e la necessità di terminare il dragaggio quanto prima al fine di accelerare il processo di disinquinamento del fiume Sarno Ogni decisione in merito a causa dell'assenza dell'Istituto Superiore della Sanità è stata rinviata ad un altro tavolo tecnico da convocare in tempi brevissimi Un grande risultato per il comune di Scafati Il sindaco Pasquale Aliberti, mercoledì scorso, si è recato a Napoli per firmare l'accordo di programma con la Regione Campania alla presenza del presidente Stefano Caldoro L'intesa tra il comune di Scafati e l'ente regionale consentirà di iniziare i lavori di riqualificazione urbana in primavera Oltre al comune di Scafati hanno firmato l'accordo i comuni di Castellammare di Stabia Torre del Greco, Afragola e Battipaglia La Regione Campania ha erogato complessivamente 90 milioni di euro dei quali circa 17 milioni e 300 mila sono stati assegnati a Scafati Un primo segnale di sensibilità verso la difficile situazione economica in cui versa il comune di Scafati e non solo è arrivato dai consiglieri comunali Quest'ultimi, consapevoli del clima sociale delicato nell'ambito della Commissione Statuto e Regolamenti hanno proposto l'abrogazione della norma che disciplina il fondo in materia di rimborsi per i consiglieri i quali possono usufruire all'occorrenza di un indenizzo sino a 5 mila euro annui per spese sostenute nell'ambito del loro mandato istituzionale un provvedimento che intende contenere i costi della politica Una missiva del primo cittadino è indirizzata all'onorevole Guglielmo Vaccaro e parlamentari della provincia di Salerno per sollecitare un tavolo istituzionale nazionale teso al reinserimento nella rete d'emergenza del Mauro Scarlato Questo è il prossimo passo del sindaco Aliberti che dopo il sopralluogo effettuato presso la struttura per una verifica puntuale dei lavori di ristrutturazione annuncia per aprile la conclusione del cronoprogramma previsto da capitolato L'auspicio, dichiara il sindaco nella missiva è quello di condurre questa ennesima battaglia in maniera trasversale facendo leva al di là dei colori politici sullo senso di responsabilità e di appartenenza La legge 211 del 20 luglio del 2000 ci ricorda che gli orrori del passato non devono essere dimenticati ed è proprio nel rispetto delle vittime della persecuzione nazista di quanti a rischio della propria vita si opposero al progetto di sterminio salvando numerose vite che la città di Scafati ha inteso commemorare la giornata del 27 gennaio attraverso una mostra fotografica presso la biblioteca Francesco Morlicchio e la proiezione del film Un treno per vivere Terza giornata di ritorno del campionato di Lega 2 Eurobet ed ancora una vittoria per la Givova Scafati che guadagna i due punti dopo l'impresa del Palalberti di Barcellona La squadra allenata da coach Giulio Griccioli riesce a battere senza troppi affanni la palacanestro Sant'Antimo con il risultato di 82 per Scafati e 55 per Sant'Antimo La truppa di Griccioli tocca quota 22 in classifica pari punti con Brindisi e Barcellona prossimo incontro della Givova Scafati domenica ore 18.15 al Palatriccoli di Iesi contro la Fileni di coach Stefano Cioppi L'appuntamento con Scafati Cambia Web TV termina qui a domenica prossima con le ultime dal tuo comune presto that's that's Grazie a tutti.